salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi parliamo di lui fimi palm 2 un action cam una vlog camera chiamiamola come vogliamo è una camera stabilizzata meccanicamente su tre assi con un gimbal meccanico quindi una camera che ci dà tante possibilità di riprese video particolari riprese video sempre stabilizzate una camera sicuramente dai molteplici usi questa è la seconda versione del filmy palm un prodotto che sicuramente è migliorato rispetto al precedente ma che ha ancora qualche lacuna il prodotto che arriva in questa scatoletta ovviamente molto semplice e minimal e all'interno trovate questa una confezione secondo me è carina una custodia di trasporto e all'interno c'è lui fimi palm 2 il bello di questo filmy è che ha sicuramente un design molto curato arrotondato quindi molto bello da tenere in mano soprattutto la gomma qua laterale che non ce lo fa scivolare quindi questa forma molto ergonomica è davvero piacevole da tenere in mano poi molto minimal nei tasti abbiamo solo un tasto centrale un joystick per comandare appunto il gimbal e qua un tasto touch per far diventare in un attimo la nostra vlog camera una camera selfie poi per il resto ragazzi basta i tasti sono finiti poi ovviamente abbiamo un display touch che ci permette di entrare nelle impostazioni del menu che è davvero molto molto completo le le opzioni disponibili sono davvero tante poi una cosa interessantissima che ha è il fatto di avere una presa jack per un microfono esterno quindi una cosa davvero utile senza il bisogno di dover acquistare un adattatore aggiuntivo per attaccare un microfono esterno qua possiamo farlo tranquillamente abbiamo una presa type c per la ricarica o per collegarlo al pc e un'altra cosa interessante la possibilità di fissarlo a qualsiasi supporto cavalletto qualsiasi cosa noi vogliamo supporto per biciclette tramite ovviamente la parte filettata qua sotto quindi un'altra cosa utile nel senso che ne bisogna anche in questo caso comprare un accessorio esterno per poterla fissare a qualsiasi supporto ovviamente lui ha un costo non esageratissimo attualmente costa dai 150 160 euro poi dipende dagli sconti dipende dai coupon però il prezzo più o meno quello vi lascio i link in descrizione se volete dargli un'occhiata cosa questo prodotto allora il prodotto secondo me è buono devo dire che è buono tra poco ve lo vedremo in azione vi farò vedere varie riprese che ho fatto in tante situazioni e devo dire che si è comportato bene il suo problema o meglio la sua sfortuna è questo dji osmo action 1 cioè la prima versione perché la sua sfortuna perché questo prodotto che è un prodotto nuovo quindi appena uscito costa 160 euro quindi un prezzo non esagerato se calcoliamo che un osmo action 2 costa più di 300 euro questo ne costa quasi la metà praticamente quindi la differenza di prezzo potrebbe dire ok la differenza di prezzo potrebbe giustificare ovviamente le differenze di prestazione mentre come vi stavo dicendo purtroppo per lui è ancora in commercio il dji osmo prima versione questo prodotto di dji secondo me fantastico che attualmente però è disponibile a un prezzo molto competitivo perché costa circa 200 euro 210 euro poi dipende dal momento di amazon però è quello finché questo sarà in giro questo sarà sempre penalizzato perché questo comunque quando è uscito un prodotto che costava 350 euro quindi un prodotto che costava tanto all'uscita che però dava tanto però adesso si trova a come rivale lui in questa fascia di prezzo nel senso che questo prodotto adesso costa solo 200 110 euro quindi per lui finché c'è in giro questo sarà un po un handicap quando quello non ci sarà più non sarà più disponibile alle vendite ma ci sarà solo la versione 2 ovviamente allora a questo prodotto avrà ancora più senso perché comunque è un prodotto che rispetto alla versione 2 costa circa la metà lui secondo me è un prodotto più che buono il suo problema più grosso secondo me è il bitrate dei file video nel senso che questo prodotto viene dato come prodotto che fa video in 4k a 30 fps con un bitrate di 100 megabit per secondo quindi gli stessi ed è questo il suo problema più grosso meglio il suo limite attualmente poi non so se è un limite dato dal sistema hardware allora il limite sarà sempre questo però è una sorta un po di fregatura perché se mi vendi un prodotto per 100 megabit per secondo poi ne fa 50 è un po una fregata se anziché 100 ne fa 80 90 ok ma se ne fa 50 anche no perché 50 megabit per secondo nel 4k sono un po pochini sebbene guardandolo non è così scandaloso e sia chiaro però si vede che non c'è quella definizione del dettaglio dovuto appunto ai pochi dati trasportati nella memoria sd poi se questo problema è hardware se lo trascinerà per sempre se invece il problema è solo che l'hardware è in grado di farlo ma non sono ancora stati in grado di sviluppare il firmware perché comunque essendo un prodotto nuovo ha possibilità di sviluppo di miglioramento continuo allora a quel punto quando aumenterà il suo bitrate diventerà sicuramente un prodotto davvero davvero buono e un altro limite che ha sono gli fps nel senso che lui viene venduto per 4k a 30 fps come limite massimo invece sarebbe stato utile averlo con il 4k a 60 fps perché comunque dj prima versione aveva già il 4k a 60 fps quindi questo è un altro limite che poi potrebbe diventare più o meno utile dipende dall'utilizzo che uno ne fa però il 60 fps secondo me in camera tipo questo ha senso averlo se scendiamo a 2,7k li ha però nel 4k e 30 fps però secondo me la specca più grossa ragazzi attualmente sono questi megabit per secondo che ne ha solo 50 e rende diciamo la qualità video non da 4k da paura nel senso un 4k buono perché adesso poi vedremo le immagini secondo me più che buono però se lo paragoniamo a un 4k con 100 megabit per secondo come il dj si vede la differenza però ripeto è che nella scheda tecnica viene dato per 100 megabit per secondo è quello che bisogna capire quindi se c'è la speranza che con i prossimi aggiornamenti questi megabit per secondo aumentino e quindi la sua definizione video migliori ulteriormente poi come colori secondo me non è niente male anzi colori secondo me molto naturali la stabilizzazione c'è l'ho usata nelle varie opzioni bloccando i vari assi usandolo in modalità fpv cioè davvero davvero bello poi ha un campo visivo di 128 gradi quindi un campo visivo secondo me bello ampio che mi piace mentre l'osmo pocket aveva un campo visivo di 80 gradi che nel senso in certe situazioni forse meglio l'80 gradi in alte però il 128 ci garantisce un'inquadratura più ampia perché comunque con i 128 gradi abbiamo comunque la possibilità di croppare quindi andando a zoomare potremo comunque avvicinare e comunque inquadrare in maniera più vicina il soggetto se però avessimo i 100 megabit per secondo perché se croppiamo un'immagine a 50 megabit per secondo si va a vedere la sgranatura mentre se avessi 100 megabit per secondo questo si può fare senza andare a perdere di un granché di qualità quando ne dovessimo avere la necessità poi l'applicazione per smartphone sia per us che per android è ben fatta completa c'è tutto molto simile a quella che è l'applicazione dji mimo per osmo pocket quindi anche dal punto di vista dell'applicazione mi piace si connette benissimo allo smartphone la connessione stabile non c'è un grande ritardo anche questa cosa mi è piaciuta tanto perché è davvero ben fatta l'applicazione è una cosa importante e poi il menu devo dire che è davvero completo e all'interno di questo display abbiamo tutto perché il tasto qua sotto serve solo per accenderlo per registrare far partire registrazione o scattare foto e per andare a spegnerlo poi abbiamo ovviamente il joystick che va a muovere il gimbal vedete quindi abbiamo questo movimento con il joystick che è una cosa sicuramente interessante avere questo bel joystick grosso che muoviamo con il pollice che ovviamente una cosa che l'osmo pocket 1 non ha e bisogna acquistare un adattatore a parte per poterlo fare poi abbiamo qua sopra un tasto touch che andandolo a cliccare vedete porta il gimbal in modalità selfie una cosa comodissima questa perché poi vedete che con un doppio tap ritorna in posizione per fare vlog video e poi questo display touch che veramente ha dentro di tutto è funziona davvero bene vedete che abbiamo la possibilità di viaggiare all'interno del menu in maniera super semplice bisogna solo ricordarsi da che parte bisogna andare per entrare nel menu che vogliamo andare a visionare le foto mi sono piaciute secondo me la qualità delle foto non è niente male anche nei colori quindi ragazzi spero di avervi detto tutto di questo film i palm 2 che secondo me è un prodotto buono migliorerà ulteriormente con i firmware perché è un prodotto nuovissimo l'unica sua sfiga ragazzi è avere lui come rivale dji 1 se lui non esistesse esistesse solo la seconda versione quindi una differenza di prezzo praticamente del doppio questo prodotto sarebbe sicuramente un best buy ma purtroppo ha tra i piedi lui finché ce n'è e finché sono disponibili purtroppo lui ne soffrirà le pene dell'inferno quindi ragazzi adesso andiamo a vedere sul campo come si è comportato scrivetemi nei commenti come vedete le immagini come vedete il confronto con osmo pocket 1 ditemi com'è lui come lo vedete lui diciamo all'interno del mondo delle vlog camera e quindi ragazzi adesso è il momento di vederlo all'opera diamo ciao 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 ok ragazzi questo è l'audio originale quello direttamente ripreso dal filmipalm2 quindi scrivetemi come lo sentite secondo me forse è un pelino basso però come vi ho detto inizio video qua senza adattatore ci potete attaccare in qualsiasi microfono esterno però comunque valutate l'audio che state sentendo in questo momento purtroppo il cielo adesso si è ingrigito rispetto a prima dove c'era veramente un bel sole però comunque l'avete visto appunto in quella situazione adesso lo vedete almeno anche in questa situazione quindi avete visto i colori con un bel sole proprio quello forte e adesso state vedendo com'è con un cielo grigio quindi avete anche questo doppio confronto di colori devo dire che secondo me dal punto di vista dei colori non è niente male secondo me si comporta bene la stabilizzazione c'è l'unica grossa pecca come vi ho detto inizio video è il bitrate che veramente basso che va a penalizzare questo 4k 30 fps cioè non lo rende bello bello definito ma un po sgranato rispetto a quello che è diciamo la concorrenza e nella scheda tecnica però viene dato per 100 megabit per secondo cioè quello che è da la maggior parte della concorrenza di alto livello l'altra pecca sono sicuramente i 60 fps mancanti nel 4k però se vogliamo assolutamente utilizzare li abbiamo nel 2,7 k però nel 4k abbiamo solo i 30 fps una risoluzione che secondo me avrebbero potuto sicuramente integrare quindi ragazzi spero di avervi spiegato bene com'è questo filmipal 2 i suoi pro i suoi contro e il suo prezzo che varia dai 150 ai 160 euro come diciamo nuova uscita quindi può solo che calare quindi come nuova uscita secondo me un prezzo più che ottimo la sua sfiga è come vi ho detto durante il video che è ancora disponibile in commercio il dji osmo pocket prima versione e quello lo va a penalizzare altrimenti lui sarebbe stato assolutamente un best buy perché a questo prezzo sicuramente è una vlog camera davvero fantastica da portarsi dietro senza spendere comunque le cifre che potrebbero essere quelle di un dji osmo pocket seconda versione quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato la recensione le mie opinioni e le mie considerazioni di questo filmipal 2 vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità curiosità anteprime infatti tanti spoiler erano arrivati riguardanti questo prodotto dove vado a volare con i droni fpv cioè tante cose arrivano lì stampe 3d quindi seguitemi su instagram se vi va e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3g offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao